Ok, allora, 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 avvicinassi al palco, è arrivato il momento di colorarci di argento, di fare un tuffo nel futuro. Per la serie degli spettacoli guest del Tommy arriva direttamente dai Freelovers Napoli, ladies and gentlemen, è un anno a rappresentarvi, Baby Jane. Per la serie degli spettacoli, 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 Baby Jane. Non mi fai dare mai Noi non mi fai perché Nessun soldi per aver guardato il nostro setting Ma come un gioco Ma come un gioco Ma come un gioco Ciao Ma come un gioco Mi gioco Ma come un gioco Ma come un gioco Ma come un gioco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.